come distinguersi dalla massa fondamentale capire come distinguersi dalla massa fondamentale capire quali sono i principi che guidano il gioco ad esempio c'è il celebre video in cui steve jobs c'è che la realtà è plasmata da altre persone bisogna dunque capire queste persone come hanno livellato il terreno di gioco affinché loro possano vincere e gli altri no se uno non conosce queste regole è destinato a perdere o comunque a guadagnare poco quali sono queste regole del gioco? sicuramente quelli che fanno le regole sono quelli dell'industria del risparmio gestito dell'asset management, del wealth management, quelli che raccomandano anche etf o fondi o azioni ho fatto un video di approfondimento che vi invito ad andare a vedere quello sui segreti sempre tra virgolette dell'industria del risparmio gestito tenete a mente che anche se sembra che gli etf siano meglio di altri titoli per la stragrande maggioranza delle persone quella filosofia lì è stata formalizzata diciamo da vanguard, da john bogol anche mediante un libro decadi dopo i bogoleds quindi persone che credono che questa filosofia sia la migliore stanno dominando e monopolizzando il dibattito sui forum privati adesso certe cose sono giuste, certe cose in alcune situazioni lo sono meno tutto parte dai libri, dalla creazione di una community non è che l'etf o il fondo siano meglio di per sé in ogni situazione perché sicuramente comprando apple all'ipo oggi avresti molti più soldi che investendo nell'S&P 500 comprando amazon, comprando nvidia quindi bisogna capire un po' che cosa si vuole dai mercati perché si è sviluppata una certa filosofia e se magari siamo ad un picco dello sviluppo di questa filosofia ritornando alla slide è chiaro che c'è un bias, un vizio portato avanti dall'industria del risparmio gestito tale per cui a loro conviene che la gente speculi in borsa, investa porti i propri capitali sui mercati secondari, non tanto sui primari in modo che si arricchiscano gli intermediari che i prezzi delle azioni salgano e quindi aumenti la ricchezza su cui poi viene calcolata la loro retribuzione e quindi c'è una tendenza dei mercati a salire utili dell'S&P 500 attorno al 1915 sei attorno ai 30 nel 1955 sei ancora lì quindi 40 anni dopo e gli utili non sono affatto aumentati 1965 utili a 50 2001 sei ancora a 50 non è che sia aumentata la capacità reddituale anche ma in grossa parte pre 2000 quindi pre globalizzazione ciò che ha fatto più la differenza sono stati i tassi di interesse che sono scesi notare lo spike qui adesso vedremo quanto è sostenibile questo incremento sicuramente le aziende che fanno più utile e che impattano maggiormente sono Apple, Microsoft e poche altre e soprattutto diventa anche difficile con elevato costo ponderato del capitale fare buyback e quindi aumentare l'EPS come era facile prima poi qualora ci fosse un pivot della Fed e il costo del capitale scendesse si potrebbero sostenere l'EPS in maniera più semplice ed eventualmente il mercato azionario potrebbe continuare il suo trend di lungo periodo in caso contrario questa ipotesi va poi verificata e anche qui avevo fatto un approfondimento sui mercati che non possono salire per sempre quindi andate a vedere anche questo video se ve lo siete perso tornando alle slide ovviamente si parla sempre di una vendita o comunque del marketing da fare per incrementare le masse sotto gestione quindi i capitali che vengono investiti quotidianamente vengono formulati dei fondi vengono formulate delle idee ad esempio tema ISG non voglio entrare in complottismi però bisognerebbe anche chiedersi tutta questa fretta di andare sul tema ISG perché è venuta proprio in questo momento perché BlackRock, Larry Fink è uno dei più grandi propositori mentre magari l'amministratore delegato di Vanguard non ne parla quasi neanche non a caso due settimane fa Vanguard ha detto belli questi ISG però abbiamo visto che alla fine a chi investe interessa più il risultato che il greenwashing ovviamente per spingere una certa narrativa non è che si fa come noi comuni mortali che abbiamo il canalino su YouTube e parliamo liberamente ci sono dei gruppi di pressione quelli che vengono chiamati lobbisti che sono dei professionisti pagati per avere colloqui con politici affinché le leggi pendano una certa direzione quindi anche qui il gioco è plasmato in un qualche modo non è che da un giorno all'altro si svegliano e dicono dobbiamo salvare il pianeta ISG c'è qualcuno che ci guadagna c'è qualcuno che ci perde sicuramente ci sono delle aziende dei settori delle dimensioni aziendali che patiscono maggiormente questa transizione e da un altro lato c'è chi ci guadagna quindi le leggi i politici chi ha il capitale per comprare i politici determina poi chi vince e chi perde altri temi megatrend elettrico robotica intelligenza artificiale tutte cose che abbiamo visto che però a volte fanno soldi a volte non li fanno ci sono difficilmente dei nomi pure play investibili ad esempio non c'è open AI quotata investibile e se lo fosse non sarebbe a buon mercato tale per cui una persona comune investendovi guadagnerebbe dei soldi in quanto comunque è già sulla bocca di tutti con chat GPT3 dunque si fa un fondo o un etf tematico ci si mette dentro un po' di tutto lo si chiama col nome figo tu dici ah ho investito in megatrend ho investito in elettrico in robotica credi di aver fatto l'investimento giusto ma in realtà hai comprato una roba già sovrapprezzata tuo potenziale ritorno basso quindi tanto valeva comprarsi un index fund basic tipo Nasdaq e qui invito ad andare a vedere il video sui migliori etf su Fineco d'altro canto vengono snobbati alcuni settori ad esempio oil and gas è un settore che ho visto raccomandato molto poco settore delle armi se andate a vedere ad esempio Smith & Wesson molto sottovalutata settore sigarette altri a Malboro sottovalutata quindi i prezzi sono bassi perché sono dei temi che non riescono ad attirare i flow perché i consulenti non riescono a raccomandare fondi di questo tipo e magari è proprio qui dove sorge l'opportunità cioè il prezzo è talmente basso talmente sbagliato che investendovi si guadagna per guadagnare in borsa occorre chiaramente comprare basso e vendere alto capitano ovvio il punto è che non bisogna andare a ricercare la cosa incredibilmente complicata l'elettrolisi, l'idogeno, la batteria, la cella tutte robe iper complicate banalmente il valore aziendale si vede sul lungo termine però il prezzo può variare molto con cali molto importanti se uno compra dopo un calo importante o dopo più cali importanti i fondamentali, le premesse sono quelli lì sono cambiati un po' peggiorati lievemente ma il prezzo può essere cambiato molto quindi quando il prezzo è cambiato molto ma i fondamentali sono cambiati poco lì si forma un'opportunità di investimento ad esempio un titolo che fa 22, 5, 80, 8 con utenti sempre in crescita secondo me può offrire degli spunti di investimento interessanti al di là del fatto che uno dica ok non lo usa nessuno che non è affatto vero perché altrimenti gli utenti non crescerebbero non lo usa nessuno o quasi in Italia o nella tua demografia che è una cosa diversa quindi in pratica il rendimento viene dato se tu compri a 8,60 e vendi a 17 e fai più 100% se tu compri a 17 dopo il ban TikTok diventa anche difficile che vada a 34 il mese dopo che è stato formalizzato questo annuncio qui bisogna essere anticipatori bisogna essere propensi al rischio ma quando il rischio è basso perché le aspettative sono di disastro è proprio lì che magari c'è l'opportunità poi come dice Warren Buffett non guadagni di più se fai una cosa iper complicata ad esempio magari ci sono quelli che si inventano il modello intelligenza artificiale predittivo per capire le temperature dunque il consumo di gas naturale ma dopo che il gas naturale fa meno 25% in una settimana la risk reward avvantaggia uno che va long poi se le temperature salgono il prezzo non sale è chiaro che non devi stare long se uno aspetta l'annuncio della bomba artica e aspetta che sia tutto congelato fuori compra che il gas ha fatto già un gap a 5,60 quindi ti sei già bruciato del margine di sicurezza e non sai neanche fin dove puoi andarlo a vendere se eri long a 6,60 e sei arrivato a 4,80 l'errore è stato fatto a monte comprando alto non uscendo nel momento ideale e cioè alla prima difficoltà e adesso il problema è un altro comunque tornando alla presentazione altri big player che ho già citato più e più volte George Soros i prezzi sono quasi sempre sbagliati in quanto c'è un pregiudizio che influenza i prezzi ma anche a volte i fondamentali quindi l'industria sottostante ad esempio parliamo di Tesla fino a 2008 andava bene 2020-2021 estremamente bene sicuramente l'industria del risparmio gestito è riuscita ad attirare tantissimi capitali sul settore dell'elettrico e sono riuscite a ottenere finanziamenti importanti anche delle aziende con produzione scarsa se non nulla questi finanziamenti consentono poi all'azienda di operare di andare in produzione e quindi di far crescere tutto il settore il problema qual è? che gli investitori si fanno tirare dentro dalla narrativa Rivian 180 che non vendeva neanche un miliardo di automobili adesso sta a 19 valutata a 20 miliardi con un miliardo di ricavi e perdite per 8 miliardi la narrativa è che diventa la nuova Tesla quindi la speranza livello optionality è che possa fare un per 10 finora con questi fondamentali forse anche 19 miliardi è una valutazione abbastanza elevata altra citazione Warren Buffett se non scopri chi è il pollo al tavolo da poker nella prima mezz'ora il pollo sei tu citazione originale lui dice il pazzi non il pollo quindi come capire chi è il pollo secondo me bisogna fare un ranking dei divulgatori più utili che ci prendono di più che hanno le idee meno mainstream più controverse e che ci aiutano ad aprire la nostra mente a generare idee di investimento a vedere titoli sottovalutati che hanno poi anche bassa copertura questo l'avevo già detto nel video sui libri consigliati che vi linko dunque è ovvio che sia necessario lasciar perdere video su youtube con tantissime views pic del jim kramer di turno adesso dal meme sul fatto che questo presentatore della cnbc non c'è zecca quasi mai sono arrivati a costruire addirittura l'etf fa ridere ma sicuramente non può essere qualcosa di sostenibile anche perché lui dà gli annunci alla cnbc se l'etf raccoglie tanti miliardi di gestito andare contro a quello che va a dire lui può muovere in maniera importante i mercati può incrementare drasticamente il tracking error di questo etf quindi sarebbe anche molto inefficiente c'è già comunque l'etf short katywood che ha guadagnato il 73% da inizio anno è chiaro perché il fondo arc ha fatto molto male quest'anno quindi se un qualcosa è overcrowded sui massimi forse è meglio evitarlo per distinguersi dalla massa è necessario avere un'apertura mentale ad esempio 2014 uno che inzia ad approcciarsi ai mercati prova col value investing le cose non vanno benissimo perché chiaramente ci sono titoli che salgono molto di più tipo Netflix Amazon Apple eccetera eccetera a quel punto lì uno dovrebbe chiedersi ma perché hai sposato la filosofia del value investing perché Warren Buffett era fan di Graham quindi Buffett è il più grande il più ricco investitore dunque se lo fa lui devi farlo anche tu diciamo che questo è un modo limitante di pensare anche perché Warren Buffett non fa più neanche lui un value investing da qualche anno oppure ancora se tu fai solo un value investing su value stock con price earnings basso bassa duration che non vuol dire neanche che siano value e poi 2016 2017 ritorna un po' ad andare bene il mercato delle cripto che poi è culminato con una bella bolla a fine 2017 uno dovrebbe chiedersi ma non era meglio fare 300 per sul bitcoin in due anni anziché stare su titoli che si sono mossi poco e niente ovviamente sul bitcoin quando ci entrano 2020 2021 adesso sono ritornati ai prezzi dal 2017 quindi come sempre sembra che la gente se lo scordi per guadagnare devi comprare basso e vendere alto se non compri basso non guadagni se non riesci a vendere alto non realizzi si può fare tutta la filosofia che vuoi tutti gli studi che vuoi però bisogna comprare un prezzo e vendere un prezzo allargando l'orizzonte temporale non necessariamente il prezzo di un titolo potrebbe salire all'infinito se lo scopo è massimizzare il ritorno aggiustato al tempo e al rischio bisogna anche fare un po' di timing bisogna anche chiedersi da dove viene un rendimento tenere sempre a mente che i soldi non crescono sugli alberi e nessuno mi regala niente a parte io che vi sto regalando la mia conoscenza e se condividete questo video con i vostri amici quantomeno mi fate diventare un po' famoso quindi io vi do la mia conoscenza ma voi mi date un po' di notorietà che ho comunque intenzione di monetizzare in qualche modo quindi se i soldi non crescono sugli alberi bisogna chiedersi come si ottiene un rendimento ad esempio dallo staking finisce come terra luna adesso non voglio approfondire però negli investimenti ti dicono se tu non sai spiegare la tua tesi di investimento e non capisci quello in cui stai investendo magari non dovresti farlo non a caso con molti titoli poi le cose sono andate male questo perché perché probabilmente uno si fa a cercare dalla fame pensa più ai soldi facili che a pensare se questo investimento ha senso se è troppo bello per essere vero perché non lo stanno facendo tutti perché non lo fanno tutti quelli grossi e bravi chiediamoci questo se non sai da dove viene il rendimento il rendimento sei tu e dunque come sempre dico bisogna capire quali sono le regole di ingaggio del gioco fare un ranking dei player se è su un titolo l'amministratore delegato ha il 30% gli istituzionali non ci sono perché il settore è controverso e il resto è sul mercato l'amministratore delegato che ci crede che fa bene può portare il titolo molto in alto se l'amministratore non ha azione praticamente è tutto sul mercato tutto in mano agli istituzionali la valutazione è altissima bisogna farsi due domande diventa fondamentale dunque capire quali sono i livelli di pensiero cosa sta pensando il mercato qual è la narrativa quali sono le ipotesi sottostanti cosa deve accadere affinché la narrativa sia confermata o smentita in che modo la narrativa raccoglie il flow di investimento qual è il timing per capire se questo scenario si verificherà o meno perché è chiaro che allungando all'infinito uno scenario prima o poi qualcosa deve succedere ad esempio prima si diceva Tesla che avrebbe conquistato tutto quanto i robot taxi l'assicurazione tutto bello poi cosa succede Musk fa l'acquisizione di Twitter adesso la gente dubita un po' sul genere di Musk la valutazione di Tesla era bella gonfia adesso ancora gonfia si sta sgonfiando adesso qual è la narrativa Elon Musk deve continuare a vendere azioni perché deve sostenere il debito di Twitter Elon Musk non è più un genio quindi Tesla deve scendere tutto quello che è successo dal 2020 al 2021 era un sogno e Tesla è sempre stata sopravvalutata al 2020 in poi basta vedere i fondamentali io tenderei a basarmi sulla price action e su scadenze di opzioni Elon Musk qualche giochetto l'ha fatto sicuramente dopo meno 20% in una settimana e dopo meno 33% in un mese meno 55% in trimestre fa un po' gola a livello di grafico è debole cercare di afferrare il coltello che cade sicuramente è pericoloso ma provare dopo che si forma un minimo di bottom potrebbe dare soddisfazioni da un punto di vista di risk reward altra ipotesi meta che punta sul metaverso il mercato si spaventa perché lievitano i costi il mercato si spaventa perché Apple ha ridotto le possibilità di targeting dell'utenza oppure perché TikTok sta rubando lo spazio a Facebook e Instagram però qui andiamo a comprare un price earnings di 15 il grosso della discesa è già avvenuto ci troviamo a delle valutazioni da 2016 diciamo che è difficile tornare a 300 ma fare un più 30 un più 40 un più 50 nell'arco di un paio d'anni non mi sembra così improbabile al tempo stesso non credo che sia parimenti probabile che un S&P 500 faccia più 30 più 50 nello stesso lasso di tempo dipende tutto da risk reward dal prezzo che paghi quando acquisti il prezzo a cui vai a vendere altre banalità bisogna evitare perdite permanenti che si hanno quando si compra alto o quando non si riesce a vendere quindi uno che è allungato qua allungato qua questa gente qua probabilmente non recupera più o comunque recupera tra 10 15 anni sempre che ci sia ancora meta tra 10 15 anni uno che compra qua uno che compra qua bene o male sa da dove è sceso il titolo difficile che meta se di mezzi da 150 vada 70 60 50 perché viene da un 350 al tempo stesso bisogna capire qual è la position sizing deve avere un suo senso né troppo piccolo né troppo grosso posizionamento troppo piccolo è quello all'interno di fondi con ad esempio 500 1000 2000 nomi anche l'S&P 500 poi non voglio entrare troppo nello specifico in questo video bisogna fare della diversificazione ma non tanto per fare ma perché la vita non è in bianco e nero bisogna posizionarsi in base agli scenari non si fanno delle previsioni se sale l'inflazione ad esempio se riapre la Cina ed è un se molto piccolo ci sarà domanda di petrolio approvvigionamenti di gas naturale per far andare le loro fabbriche approvvigionamenti di altri materiali di base e quindi salirà l'inflazione allora sale l'inflazione tech va male materiali di base vanno bene sale l'inflazione obbligazionario male a questo punto si può fare una diversificazione settoriale non è che se uno diversifica tra Apple Meta Google Amazon Salesforce è diversificato e comunque i pesi all'interno dell'S&P sono statici non è che Energy da 5% di peso può salire al 20% e tech dal 24% può scendere al 10% nell'arco di poco tempo dunque è necessario prepararsi per il peggio per selezionare i titoli o le opportunità bisogna aver ben in chiaro che ci sono 58.000 aziende quotate quindi tantissime opportunità non ci sono solo le azioni quindi ci sono anche i derivati ci sono le obbligazioni ci sono certificates ETC ETN eccetera eccetera non imitare i vari Warren Buffett o Ray Dalio che hanno centinaia di miliardi da gestire e quindi fanno una certa operatività quando esce il 13F dove viene detto come è variato il loro portafoglio 45 giorni dopo la chiusura del trimestre quelle mosse li sono già state fatte è utile per capire come hanno pensato non è utile per far soldi in maniera diretta andando a copiare i grossi ad esempio Michael Burry ha comprato un tot di azioni quali Charter e Curate informazione uscita il 14 di novembre il 16 dicembre Charter aveva perso molto perché dall'investor day hanno detto che sostanzialmente dovrebbero fare ulteriori investimenti al pari di meta quindi significa meno ritori per gli azionisti nel breve termine per i tangente cosa avrà fatto Barry avrà liquidato anche posizioni in altri titoli Curate in un giorno ha fatto meno 22% senza news apparenti ciò che ho potuto supporre era che appunto quello che stesse liquidando era Barry quindi ho comprato Curate che comunque mi sembra sottovalutata Curate da 1,50 fa più 8% quasi e l'S&P 500 non fa così poi chiaro lunedì o martedì può anche fare nuovi minimi però secondo me a 1,50 era ridicola come price action e le ho comprate per chiudere evitare di autodistruggersi che che mi sembra un fenomeno ricorrente tra la massa bisogna capire cosa si vuole dai mercati e i mercati possono dare proprio ciò che vuoi cioè se tu vuoi scoprire te stesso quanto dolore puoi sopportare lo scoprirai molto presto però magari c'è uno che perde soldi si sente giù si sente depresso calo di autostima cosa pensa? pensami merito a questa perdita continuo a perdere non è che faccio qualcosa per smettere di continuare a scavare questa fossa finché non si arriva al punto che la perdita diventa irrecuperabile portafoglio goblin mode praticamente e ti sei rovinato per niente d'altro canto c'è il genio che vuole dar prova della sua abilità ha il mercato che gli va contro compro 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 compra leva margin call non ha più capitale o comunque ha un capitale talmente risicato che per recuperare deve fare una percentuale incredibile che sicuramente se fosse stato in grado di ottenere non sarebbe andato praticamente stirato altro multimiliardario Paul Tudor Jones che ha anticipato il Black Monday dell'ottobre 1987 losers average losers cioè i perdenti mediano i trading perdita ma non vuol dire non mediare mai ma vuol dire che magari se stai perdendo non sei al top della lucidità mentale e quindi se vai a mediare in quella situazione lì probabilmente stai commettendo un errore che non dovresti commettere viceversa quando stanno andando le cose molto bene e stai guadagnando allora magari sì che dovresti incrementare la tua size in ogni caso chiudiamo qui il video che è stato molto più lungo del previsto vi ringrazio di essere arrivati fin qui se potete condividetelo per favore con i vostri contatti ci sentiamo presto un abbraccio virtuale ciao 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 ciao